Vado Siamo nei locali dove è stato messo questo bidone di raccoglimento dell'acqua è una safe water station la safe water station è un'acqua purificata con dell'ozono messa a disposizione a dei costi bassissimi, 40 rupie per litro dove la gente entra in questo locale prenderà l'acqua da acqua e tirerà le proprie bottiglie senza consumare bottiglie di plastica dopodiché scriverà quanti litri ha preso vedete qui e metterà 40 rupie per ogni litro preso come vedete possiamo anche studiare la tipologia di persone insolute qui sono tutti tracker Austria, Germania, Brasile e questo è un servizio veramente importante perché possiamo ridurre drasticamente il consumo di bottiglie dell'acqua grazie a tutti